Ormai è un rito a cui non si può rinunciare, una grigliata di società nel gazebo allestito nell'antistadio al tombolato con dirigenti, giocatori, staff e giornalisti. Il Cittadella fa gruppo anche così con il portiere Paleari, improvvisato cameriere ai tavoli per servire ai compagni costicine e salsicce preparati dai collaboratori della società. Umore decisamente più sereno dopo la difficile partenza che, a detta di tutti, era da mettere in preventivo. Sapevamo che sarebbe stata dura quest'anno ma i nostri valori adesso stanno riemergendo, hanno detto il DG Marchetti e il presidente Andrea Gabrielli, presente con le sorelle e la moglie. Abbiamo visto che se facciamo quello che sappiamo fare i risultati arrivano, dobbiamo correre più intensamente degli altri e fare più punti possibile. Grazie alla presidente che in questo inizio di campionato ci è stato più vicino del solito anche agli allenamenti perché ha compreso il momento difficile. Sono le parole queste del capitano Manuel Iori.